Alla manifestazione Futuro Remoto diversi seminari e workshop, tre di questi sono organizzati dall'Università di Salerno, uno in particolare ha il titolo alla ricerca di pianeti extrasolari. Di cosa stiamo parlando? Beh, la ricerca di pianeti extrasolari, quindi la ricerca di pianeti che orbitano intorno ad altre stelle. Sicuramente questo è un tema che affascina il grande pubblico perché tutti si chiedono se esistono altri mondi simili alla Terra, se su questi mondi ci sono le condizioni per lo sviluppo della vita e se addirittura esistono altre forme di vita intelligente nella nostra galassia. Quindi questo è un tema che ha non solo risvolti scientifici ma anche filosofici, anche sociali, perché tutti quanti immaginano che prima o poi questa umanità in qualche modo dovrà uscire fuori da questo piccolo pianeta e cercare altri posti nella nostra galassia da colonizzare. Quindi in questi ultimi 20-25 anni in cui siamo stati alla ricerca di questi pianeti extrasolari, adesso se ne conoscono più di 3.000 e in qualche modo stiamo gettando le basi di questo futuro remoto che aspetterà la nostra umanità. Quindi si conoscono pianeti di tanti tipi, giganti gassosi, pianeti ghiacciati, deserti rocciosi, ma solo una piccola percentuale presenta le condizioni per l'abitabilità e su questi si concentrano le ricerche di questi ultimi tempi. Ricerche condotte da un team che va citato quasi d'obbligo. Certo, il nostro gruppo è stato fondato dal professor Gaetano Scarpetta che è un professore merito della nostra università e fondatore della facoltà di scienze. Adesso il gruppo è diretto da me che sono il ricercatore del Dipartimento di Fisica e poi ci avvaliamo di dottorandi assegnisti. Abbiamo un osservatore astronomico sul tetto del Dipartimento di Fisica che ricordiamo è il più grande all'interno di un campus universitario in Italia con il quale noi svolgiamo le nostre ricerche alla ricerca di questi pianeti extrasolari e non solo perché noi facciamo anche modellazione e interpretazione, abbiamo sviluppato il codice più veloce al mondo per lo studio di pianeti con il metodo del microlensing e siamo stati anche chiamati dalla NASA unici europei all'interno del team scientifico che studierei pianeti extrasolari con il satellite da Blue First che si era lanciato nel 2026. La partecipazione a Futuro Remoto perché è importante secondo lei? Allora io farò un seminario, una conferenza in Futuro Remoto in cui illustrerò i risultati delle ultime scoperte che sono state anche molto pubblicizzate dalle televisioni e illustrerò anche i risultati delle nostre ricerche. La divulgazione è un aspetto fondamentale della ricerca scientifica, è importante rendere partecipi tutti i cittadini delle scoperte scientifiche perché sono temi che coinvolgono anche tutti quanti e anche perché dobbiamo in qualche modo uscire fuori dalle piccolezze del nostro mondo e studiare le grandi immensità dell'universo sicuramente aiuta da questo punto di vista.